Giallo Rossi, un ringraziamento da parte della società a tutto il pubblico presente allo stadio Nicoli Cenavo. Cominciamo con un grande applauso a coloro che rappresentano i colori giallo-rossi in Italia e nel mondo, la curva Massimo Caprao! E ancora gli amici della Tribuna Ovest, la Tribuna Centrale, Tribuna Est, gli amici dei distanti, e gli intermeccati Coppa della Calabria vi presentano la formazione dei giallo-rossi! Grazie! 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 Andrea Bianchimano, con il numero 11 Giuseppe Radella, con il numero 15 Andrea Signarini, in ritorno con il numero 17 Mamadou Carotè, con il numero 19 Carlo Adenizio, con il numero 21 Manuel Ficilai, con il numero 23 Giuseppe Fellomeni, in parchina a disposizione con un grande applauso del pubblico il mister Gaetano Adeni, con il numero 12 Ciccone, con il numero 3 Pambianchi, con il numero 7 Dursi, con il numero 8 Iuliano, con il numero 10 Giannone, con il numero 16 Eclu, con il numero 18 Nicolopoulos, con il numero 20 Lame, con il numero 22 Mittica, con il numero 25 Posocco, con il numero 30 Casoli, arbitro dell'incontro del signor Amabile di Vicenza, Guadagnolo, con il numero 38 Caminoli, Qual에요, Carco e De Santis Grazie. 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 Buongiorno, buongiorno! Buongiorno! Buongiorno, buongiorno! 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 e dai non dino la pide un, ahia la risa di un Grazie a tutti. 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 Bye. Grazie a tutti. 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 a tutti.